Il cervello nella vasca è un esperimento mentale basato sull'idea che l'esperienza di una realtà simulata non presenterebbe nessuna differenza rispetto alla vera realtà. Immaginiamo che un cervello sia stato prelevato alla testa di una persona, messo in una vasca piena di un certo fluido e quindi collegato ad un congegno, capace di replicare gli impulsi elettrici che di solito arrivano dal mondo esterno. Il punto è che un meccanismo del genere creerebbe un'esperienza di realtà simulata indistinguibile dal mondo reale. Questo introduce il problema dello scetticismo radicale. Secondo l'esperimento potremmo già vivere una situazione analoga senza però accorgercela. Ciò implicherebbe che tutte le nostre convinzioni attuali sul mondo sono false. In tal modo adesso non staremmo leggendo questo libro. L'esperienza ci vorrebbe creata da un macchinario situato di Saddu.